Referendum ottobre 2016. Vota no. Vota no perché è un governo non votato. Menzogna. False promesse. Palesi i favori alle banche. Palesi i favori alle società di gioco d'azzardo. Palesi i favori a sorelle, a fratelle, a padri di banche. Questa volta se non vai a votare sei proprio palesemente un deficiente. Non è questione di politica. Si chiama buonsenso. Quel buonsenso che evidentemente si è perso. Quello che ti fa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non possiamo continuare a dire questione di punti di vista. Ci sono cose che sono sbagliate. Renzi non puoi prendere un aereo nazionale governativo per andare in montagna. Renzi non puoi prendere la presidenza di un consiglio senza essere votato dal popolo italiano. Renzi non puoi fare promesse ogni giorno e non mantenerle mai. Non ci sono marchi politici. Non c'è Lega Nord, non c'è PD, non c'è Berlusconi, non c'è il Movimento 5 Stelle. È solo una questione di buonsenso.